Se il buongiorno si vede dal mattino allora è proprio il caso di dire che c'è bisogno di darsi una mossa. La prima serata di Champions League ha messo in mostro un divario tanto netto quanto atteso tra le cosiddette big e le squadre di livello nettamente inferiore. A metà del guado si pone la Juventus di Conte incapace di aggiudicarsi i tre punti contro un Copenhagen apparso nettamente poca cosa. Real Madrid, Paris Saint Germain, i due Manchester oltre ai campioni del Bayern invece hanno mostrato il vero volto, quello di un'altra categoria. E oggi potrebbe esserci la replica anche se alcuni match sembrano più livellati. Marsiglia-Arsenal, Atletico Madrid-Zenit, oltre a Napoli-Borussia Dortmund dovrebbero essere partite sul filo di lana. Il Milan, prossimo avversario degli azzurri di Benitez domenica sera, affronta invece il Celtic di Glasgow e non dovrà sottovalutarlo come ha fatto proprio ieri la Juve con i campioni di Danimarca. Sicuramente noi siamo molto fiduciosi nelle nostre qualità, nelle nostre caratteristiche, però sappiamo che affrontiamo una grande squadra, una squadra che gioca su ritmi molto alti, lascia poco spazio e quindi come tutte le partite di Champions sarà molto difficile per noi. È chiaro che anche loro temono noi come è giusto che sia e quindi questo sicuramente è un dato che ci deve dare fiducia. Una partita importante perché affrontiamo una squadra che fa della fisicità, oltre che alle qualità tecniche che ha nel reparto offensivo, è una squadra pericolosa da affrontare. L'emozione è tanta perché esordire in Champions a San Siro c'è tanta voglia di esordire, c'è tanta voglia di affrontare questa squadra e sì l'anno scorso ha portato bene appunto speriamo si riproponga la cosa.